la bellezza non bellezza come canone estetico ma la bellezza di alcuni momenti stare in famiglia una vacanza uscire a bere una birra con gli amici con la squadra di basket la bellezza anche di un progetto ben riuscito al lavoro quindi la bellezza di alcuni momenti che poi danno un senso a tutto il resto grazie